Il calcio è uno sport affascinante e imprevedibile proprio perché cambia, soprattutto nei campionati come quello che stiamo vivendo, cambia le valutazioni sulla stagione di una squadra nel giro di un mese, di un mese e mezzo. Parliamo di Inter e Milan, per esempio. Ecco, a fine gennaio, primi di febbraio, il Milan sembrava essere arrivato al capolinea. Travolto dall'Inter nella Supercoppa, perde anche il derby, prova a cambiare tattica, cerca nuovi interpreti. L'Inter invece sembrava lanciata, non verso lo scudetto, ormai compromesso, ma verso una stagione assolutamente brillante. Ecco, siamo arrivati invece ad aprile e in questo momento si sono completamente ribaltati i ruoli. La vittoria del Milan contro il Napoli dà un entusiasmo straordinario a tutto l'ambiente rossonero su due importantissimi obiettivi. Il primo è quello di giocarsela col Napoli ad armi pari e il 4-0, a di là del fatto che non deve trarre in inganno, però è sicuramente un motivo di grande conforto per i tifosi e anche per la squadra. Non dimentichiamo che il Milan ha giocato sempre meglio del Napoli negli scontri diretti, sia l'anno scorso, ma l'anno scorso, insomma, la scorsa stagione può essere relativo, ma anche e soprattutto, direi, nella stagione in corso. Il Milan-Napoli 2-1 per i partenopei era stata una gara in cui il Milan aveva giocato molto meglio del Napoli, aveva creato cinque palle gol segnandone solo una, il Napoli tre palle gol segnandone due. Insomma, c'era stata una superiorità, tanto che si era parlato di partita sfortunata. Ora, nessuno deve pensare che la differenza dei valori tra il Milan e il Napoli sia quella che si è vista ieri, non sono quattro gol di scarto, ma certamente c'è qualcosa nel gioco del Milan che il Napoli fatica a contenere. Forse perché il Milan ama le squadre propositive, ama le squadre che affrontano i giocatori rossoneri a viso aperto. Basti dire, per esempio, che il Tottenham, che a sua volta è stato propositivo, alla fine è stato eliminato dal Milan. Questo non significa che il Milan eliminerà il Napoli, ma se le percentuali prima di queste partite erano ampiamente a favore del Napoli, dopo le ultime partite con il Tottenham e con il Napoli, appunto, diciamo che il Milan sa di giocarsela praticamente ad armi pari. Saranno magari degli episodi a decidere chi passerà il turno, ma è evidente che i 20 punti di distacco che ci sono tra Milan e Napoli, non sono 20 per l'esatte, sì, ma sono probabilmente 20, se ricordo bene, 21-51 in Milan e 71 in Napoli, non sono la reale differenza tra le due squadre. Il Napoli vince il campionato perché ha avuto continuità, perché ha avuto degli interpreti, soprattutto in attacco, Osimè su tutti, con Varaschelia, più importanti del Milan, però poi nello scontro diretti i valori non sono così distanti. Certamente bisogna capire se ci sarà Osimè o meno e tutto lascia intendere che il giocatore centravanti del Napoli sarà della partita già a San Siro tra una settimana. Si diceva appunto del Milan che sembra risorto. Beh, intanto bisogna chiarire un paio di concetti. Il primo, l'avevamo detto anche in questi nostri dialoghi, in realtà monologhi, chiedo scusa, ma insomma non potendo parlare direttamente con voi non posso confrontarmi, ma certamente per esperienza, per anni di attenzione al calcio, io ho visto che quando una squadra ha dei problemi, pensare, illudersi, che basti cambiare il modulo per ritornare a vincere è sempre pericolosissimo. Una squadra va in crisi per tante ragioni e non è il modulo che ti fa vincere o perdere una partita o un campionato. Sono altri valori. Così quando si pensava che bastasse mettere un difensore in più, giocare a tre e spostare, scelta a mio avviso abbastanza cervellotica, Leao in una posizione più centrale, si è visto che per due o tre partite la cosa sembrava funzionare, malgrado Leao fosse evidentemente in crisi in quel ruolo, ma si è capito abbastanza in fretta che poi oltre questo non si poteva andare. Giusto quindi che Milan abbia ripreso a giocare il calcio che lo ha portato a vincere lo Scudetto e che lo ha portato a disputare le migliori partite degli ultimi anni. Anche qui non basta essere tornati al 4-3-2-1, anzi al 4-3-4-2-3-1, scusate diamo i numeri, però insomma per pensare di vincere tutte le partite, ma questa era la strada e era una strada da non abbandonare, con un paio secondo me di idee forti che devono però rimanere nella testa di Pioni. La prima, Leao deve giocare a sinistra, punto è finito, lui è lì che si esprime al meglio, non bisogna cercare di fargli percorrere territori centrali dove spesso e volentieri si perde e quindi riportarlo a sinistra in coppia con Teo Hernandez per sfondare su quel settore del campo è fondamentale. Il secondo, piaccia o meno, questo centrocampo ha bisogno di un equilibratore che si chiama Krunic, così come ad un certo punto l'anno scorso l'equilibratore fu che sì, quando si decise di togliere Brian Diaz, che non era in condizioni di reggere da parte per limiti fisici e atletici, e venne ripiazzato nel centro del campo un giocatore più di forza, di contrasto, un francifrutti. Ecco, Krunic anche contro Napoli ha fatto un'ottima partita, staticamente ineccepibile, ha permesso al Milan di avere una supremazia centrocampo e poi c'è stata questa novità interessante, e cioè Brian Diaz a destra. Aveva già giocato a destra con buoni risultati contro la Juventus, probabilmente su questo Pioli e forse in parte anche Maldini e Massara sono poco elastici, cioè considerano chi deve giocare a destra o un interprete puro del ruolo, oppure non ci credono abbastanza. Ora, il Milan ha storicamente un problema su quella fascia di qualità. Salemakers non è un giocatore di qualità, non lo è neanche Messias, sono dei buoni interpreti, ma non certamente dei giocatori capaci di inventare delle cose straordinarie. Ecco, Brian Diaz in quel ruolo, che lui ha interpretato in maniera un po' atipica, perché non è stato molto largo a destra, spesso e volentieri tagliava al centro, però in quel ruolo Brian Diaz è in grado ogni tanto di fare qualcosa di inaspettato, di fare la giocata del fuoriclasse. E immaginare un finale di stagione in cui Milan si ripropone in questa chiave, cioè con il centrocampo di Tonali, eccellente davvero contro il Napoli, e Ben Nasser, che è una sicurezza, aiutati da Krunic, e con sulla fascia destra Brian Diaz, che dà sicuramente più qualità, più fantasia, più inventiva, potrebbe essere una soluzione ottima per un finale di stagione che per il Milan è particolarmente importante, perché non dimentichiamo che, al di là della sfida con il Napoli, arrivare magari auspicabilmente a una semifinale contro il Benfica o contro l'Inter, però insomma il percorso del Milan è comunque molto occidentato in Champions per arrivare a vincerla. Molto più semplice sulla carta dovrebbe essere arrivare tra le prime quattro, ma qui il problema diventa difficile da risolvere, sia per il Milan che per l'Inter, che ha un punto in meno, perché non dimentichiamo che un posto è del Napoli, l'altro posto sembra ormai occupato dalla Lazio, c'è sempre l'ipotesi di Juventus che possa rientrare nel gioco, ma che rientri o non rientri la Juventus. Supponiamo che alla Juventus non vengono riassegnati i 15 punti o che vengono riassegnati e poi ritolti per la vicenda dei stipendi. Dimentichiamoci per un attimo della Juventus. Nella migliore delle ipotesi ci sono due posti disponibili per andare in Champions League, perché la Lazio sembra ormai aver trovato il suo passo. E per questi due posti ci sono il Milan a 51, l'Inter e la Roma a 50 e a 48 l'Atalanta. Insomma, questa è una volata che si deciderà forse, auguriamoci, non per il Milan, per l'Inter, per le squadre di Milano, da dove stiamo parlando, ma insomma nell'ultima giornata di campionato. Quindi non si può mollare nulla. Paradossalmente, ecco, la partita del Milan contro l'Empoli di venerdì conta tanto quanto quella contro il Napoli poi della settimana dopo. Se il Milan riuscirà a ritrovare questa concentrazione, la stessa concentrazione che nello stesso periodo dell'anno, l'anno scorso, ha permesso il Milan poi di inanellare una serie di vittorie che l'hanno portato allo scudetto, bene, in caso contrario anche una serata così magica, così straordinaria come quella contro il Napoli, il 4-0 che rimarrà comunque nella storia di questa stagione come una delle perle più belle del Milan e rischia poi di essere inutile. Troppe volte il Milan, così come anche l'Inter, questo è un grave difetto, hanno dato il meglio di sé nelle grandi partite. Ora è il momento di dare il meglio di sé anche, vorrebbe dire, quasi soprattutto nelle partite apparentemente più facili. Staremo a vedere se ci riusciranno. Grazie.